In questa prima lezione affronteremo il problema definitorio della biopolitica. Cos'è la biopolitica? Ecco perché questa scelta definitoria rispetto al problema cos'è la biopolitica? Perché a nostro avviso sono assenti lungo le diverse interpretazioni pro e contro di che cos'è la biopolitica rispetto alla sua origine storica, filosofica, teologica, rispetto alle sue applicazioni, tuttavia è assente un problema definitorio di base. Ecco come vogliamo cercare di chiarire un problema definitorio rispetto a cosa è la biopolitica? Offrendogli un'accezione di metadispositivo. Ecco, in questa lezione vogliamo fondare la biopolitica come metadispositivo. Perché vogliamo offrire un'accezione che si connetta a questo termine? La soluzione la troviamo rispetto all'origine etimologica di questo termine con cui vogliamo appellare il problema definitorio di cos'è la biopolitica. Infatti se ci riferiamo all'origine etimologica del termine dispositivo ci accorgiamo che deriva dal latino dispositus che significa atto a ordinare, atto a stabilire. A sua volta stabilire deriva dal latino stabilis che significa rendere fermo e in senso più estensivo da un punto di vista semantico fondare. Ecco dunque che la biopolitica è un dispositivo nel senso che intende fondare. Ma come si evince dal titolo stesso di questa prima lezione vogliamo aggiungere all'accezione dispositivo anche il suffisso metta. ecco perché vogliamo intendere la biopolitica come un metadispositivo. Per il semplice motivo che è un dispositivo che intende fondare ciò che ancora deve essere fondato. Ciò che ancora deve essere fondato. Ecco che in questa prima lezione soffermeremo appunto la nostra attenzione sul problema di questo qualcosa che deve essere ancora fondato. Mentre nelle successive lezioni vedremo una volta fondato questo qualcosa, questo oggetto ignoto, come esso deve essere a sua volta disposto e strutturato. Ecco la biopolitica come metadispositivo è un dispositivo teoretico perché appunto cerca, assume il compito di definire ciò che ancora deve essere fondato ma tuttavia assume un'immediata implicanza etico pragmatica perché perché la definizione di questo qualcosa deve portare appunto a una sua struttura di tipo etico e politico, biopolitica appunto. Ecco il metadispositivo così come stiamo scegliendo di definire e fondare il problema definitorio della biopolitica si differenzia da qualsiasi altro dispositivo. Perché? Perché la biopolitica non assume come suo compito specifico quello di offrire un'interpretazione al millenario interrogativo filosofico di matrice greco-platonica e greco-socratica che risponde alla domanda chi è l'uomo. L'uomo nel rapporto con se stesso, con gli altri, con il mondo degli oggetti esterni, col trascendente. Ecco la biopolitica non si preoccupa di offrire un'interpretazione al vecchio uomo della tradizione ma assume il compito di rifondare in questo senso e un metadispositivo fondare nuovamente, rifondare lo statuto ontologico stesso dell'umano. E nel momento in cui si assume questo compito così radicale, rifondare lo statuto ontologico della natura umana, prende coscienza e si assume l'altra responsabilità di smantellare lo statuto ontologico di quello che vogliamo definire rispetto alla biopolitica il vecchio uomo. Vecchio uomo a prescindere dalle variegate angolature con cui è stato letto e pensato nel corso della storia della cultura dell'umanità. La biopolitica smantella questo vecchio uomo e rifonda un altro uomo, un nuovo uomo, un uomo originario che viene creato ex novo, cioè non ha alcun tipo di legame col vecchio uomo che lo ha preceduto. Questo intento che è il principale obiettivo del metadispositivo biopolitico, dobbiamo, necessita, merita una profonda spiegazione. Perché l'esigenza di un uomo ex novo da creare dal nulla originariamente. Perché per la prima volta nel nuovo millennio, oggi, in questo momento, sono presenti nuove possibilità di intervento biogenetico e digitale non solamente nei confronti dell'ambiente esterno, che è un problema già storicamente datato, ma potenzialità, nuove frontiere biogenetiche digitale nei confronti del corpo stesso dell'uomo. E questa è l'assoluta novità che porta un dispositivo a distinguersi da tutti gli altri, e questa è la biopolitica, per occuparsi di questo nuovo uomo il cui corpo viene e verrà sempre più modificato. E infatti, chi è questo uomo nuovo oggetto del metadispositivo della biopolitica? È un uomo che può potenziare il suo corpo, ma attenzione, un uomo che potenzia il suo corpo non attraverso il tradizionale paradigma uomo-natura, individuo-ambiente, cioè è un uomo che potenzia il suo corpo non intervenendo direttamente sull'ambiente biologico, rendendolo culturale e attraverso questa operazione tecnica potenziare se stesso. No, è un uomo nuovo che potenzia il suo corpo non da e attraverso l'ambiente, ma attraverso se è medesimo. A questo proposito è calzante un confronto con, potremmo etichettare, l'antenata della biopolitica, ossia la bioetica. Negli anni 70, precisamente nel 1971, in Bioethics Bridge to the Future, Potter, l'oncologo Potter, cercava di stabilire un ponte, un bridge, appunto, fra le nuove frontiere biogenetiche e il dover essere verso cui orientare, limitare e giudicare la possibilità della messa in atto di queste frontiere. Ecco, la biopolitica oggi è oltre la bioetica, perché la bioetica non intendeva in alcun modo definire e fondare un nuovo uomo, ma si preoccupava semplicemente, dalle più diverse angolature, come è noto, di offrire al vecchio uomo tradizionale nuovi paradigmi, o consolidarne di vecchi, per orientarlo a come dover potenziare il proprio corpo rispetto alle nuove frontiere biogenetiche che, a partire dagli anni 60, venivano sempre più alla luce. Ecco, la biopolitica non si preoccupa di interpretare come dovrà andare il vecchio uomo, ma prende atto che il vecchio uomo è finito e nel questo momento, nel momento in cui prende atto che il vecchio uomo è finito, assume coscienza di doversi assumere la responsabilità di diventare il nuovo dispositivo funzionale a definire chi è questo nuovo uomo. Quindi la biopolitica non ammonisce, se è morale o meno, che l'uomo potenzi se stesso, perché l'uomo nuovo ha già potenziato e sta già in questo momento e sicuramente in futuro potenziando se stesso. Pertanto la biopolitica non si pone un problema etico, ma si pone un problema amministrativo gestionale, cioè il suo obiettivo non è quello di prescrivere all'individuo quale tipo di etica adottare per orientare o meno il suo corpo verso queste nuove frontiere di potenziamento biogenetico e digitale. Non è questo il suo compito. Il suo compito è quello di assumere l'uomo nuovo come già potenziato, prenderne atto e quindi gestirlo, amministrarlo e controllarlo. Vedremo poi nella terza lezione che anche questo controllo ha delle fortissime implicazioni etiche che tuttavia si distinguono opportunamente da qualsiasi altro tipo di approccio etico di tipo tradizionale che assunto come oggetto della speculazione etica il vecchio uomo. Ecco, interroghiamoci ora non sull'oggetto della biopolitica, cioè il nuovo uomo, ma su essa stesso, sul suo essere metadispositivo. Perché la necessità di un nuovo dispositivo? In effetti, potremmo domandarci, la biopolitica in realtà non è sempre stata presente in ogni momento della storia della cultura? Del resto, ogni forma politica non è altro che una forma interpretativa, organizzativa di un rapporto, di un paradigma uomo-natura. Gruppo di individuo ambiente, organizzazione umana, risorse a disposizione. Facciamo un esempio. Riferiamoci ad esempio alla cultura mesopotamica, dalla quale tradizionalmente, storiograficamente, si vuol far risalire l'origine della civiltà. Ecco, anche in Mesopotamia, in un certo momento storico-geografico, storico-politico, storico-economico, storico-alimentare, gruppi di individui si organizzano per potenziare e intervenire sull'ambiente biologico esterno, renderlo culturale, cioè intervenire su di esso attraverso la tecnica e così potenziare il loro gruppo. Infatti, cos'è un'aspettativa di potenziamento? Che è una chiave di lettura molto importante per distinguere la biopolitica da tutti gli altri dispositivi? Un'aspettativa di potenziamento non è altro che un'organizzazione umana che cerca di rendere sempre più culturale il biologico esterno. Più tecnicizza questo biologico esterno, più un gruppo potenzia se stesso. Maggiore il potenziamento, maggiore sono le forme di civiltà che ne emergono. E si parla di società domestica, famiglia, comunità, civiltà, stato, società tecnologica oggigiorno. In una parola sola, politica. Infatti, cos'è la politica? La politica è quel dispositivo presente in ogni momento della storia della cultura in cui l'uomo prende coscienza delle sue potenzialità di intervento sull'ambiente biologico esterno. Intervenendo sull'ambiente biologico esterno, cioè rendendolo culturale, l'uomo e il gruppo con cui egli condivide quello spazio ambientale si potenzia e trae vantaggio rispetto magari ad altri gruppi vicini. Ecco, le forme politiche che organizzano gruppi di individui nel rapporto con l'intervento culturale sul biologico esterno, le forme organizzative e amministrative, cioè le forme politiche per utilizzare un termine aristotelico, ripreso dalla politica aristotelica, le architetture politiche si sono declinate nella storia della cultura nei più svariati dispositivi. Dispositivi fra loro eterogeni, il più delle volte in conflitto, talmente in conflitto che nella storia dell'umanità hanno generato quelle guerre sanguinose che hanno accompagnato tutta la storia dell'umanità. Dispositivi politici laici, di matrice religiosa, confessionale, ideologico-politica, integralista, totalitarista, dispositivi filosofici, di matrice sociologica, ancora antropologica, etnologica, ovviamente giuridico-legislativa, soprattutto a partire dallo stato di diritto del Seicento. E in ultima analisi, a fine del secolo scorso, dispositivi politici di tipo bioeticista, cioè dispositivi che tarano il paradigma uomo-ambiente attraverso un controllo morale di queste aspettative di potenziamento che dalla fine del secolo scorso sono sempre più alimentate da nuove frontiere che tradizionalmente in passato, in epoche precedenti, non si sono mai manifestate. Ecco dunque che la biopolitica non è assolutamente relazionabile a queste forme politiche, da qualsiasi architettura, punto di vista, angolatura esse provengono. Perché l'obiettivo della biopolitica è quello di ripensare non il paradigma uomo-ambiente, ma quello di ripensare lo statuto ontologico stesso della natura umana, rispetto a se stessa. Uno statuto ontologico che è totalmente radicalmente differente da quello del vecchio uomo, che era un vecchio uomo che si rapportava all'ambiente esterno modificandolo culturalmente attraverso forme soggettive, ingegno, razionalità, intuito, libera scelta, conflitto, morale, eticità. Il nuovo uomo della biopolitica potenzia se stesso da se stesso, attraverso il suo stesso corpo, cioè non ha bisogno per potenziarsi delle facoltà propriamente soggettive, cioè di quelle facoltà necessarie a ripensare il biologico esterno come un prodotto, come un oggetto culturale che possa potenziare l'intervento dell'uomo su questo ambiente. Ecco, rispetto a questi assunti che abbiamo delineato, rispetto ai riferimenti, agli esempi, alle differenze che qui sono state poste in gioco, cerchiamo in questa prima lezione di offrire per la prima volta una sintesi forte di cosa è la biopolitica, rispondendo a questa domanda cos'è la biopolitica nel senso di un metadispositivo che possa accompagnare metodologicamente, senza prendere una posizione pro e contro, tutte le diverse declinazioni che l'applicazione del dispositivo biopolitica su vari fronti è stato messo in campo. Ecco, questo può essere un fondamento definitorio, di tipo fondativo. Ecco che cerchiamo quindi di definire che cos'è il metadispositivo della biopolitica. La biopolitica non vuole amministrare le risorse esterne all'umano, ma quelle interne, quelle che in senso specifico fanno riferimento al suo nuovo corpo. Ecco, un riferimento rispetto a questa definizione, un riferimento alla modernità è necessario. La modernità non ha assunto mai un problema di tipo biopolitico, perché si è interessata ad amministrare le risorse esterne dell'umano rispetto alle forme ingegnose con cui questo umano ha cercato di modificare, di rendere culturale, di rendere tecnico il suo ambiente esterno e così anche gli altri suoi consociati. Quindi le aspettative di potenziamento nel corso dell'età moderna, nel corso di tutta la storia della cultura, ma è necessario adesso un confronto specifico con l'età moderna, perché è stato il momento di passaggio verso l'età contemporanea, nell'età moderna le potenzialità dell'uomo nei confronti dell'ambiente sono sempre state oggetto specifico di indagine. Perché in queste potenzialità si è giocato, specialmente nella modernità, anche in altri periodi precedenti, ma specialmente nell'età moderna, sulla organizzazione di queste potenzialità su cui si è fondato il rapporto uomo-ambiente si sono giocati diversi dispositivi, perché l'indagine su queste potenzialità ha avuto profonde implicazioni per quanto riguarda la definizione antropologica dell'essere umano, della natura umana, rispetto al suo ingegno, nel modo in cui utilizzare il suo ingegno, nel modo in cui rendere etica la sua scelta di mezzi per raggiungere determinati fini, per quanto concerne la definizione di razionalità, libertà, volontà e ingegno. Ecco, questo è stato il problema della modernità, definire quali potenzialità dell'uomo, quelle potenzialità spirituali appartenenti alla sua soggettività, a prescindere dal fronte a cui stiamo facendo riferimento nella modernità, comunque le potenzialità dell'uomo sono state, rispetto alla loro esplicazione soggettiva, il principale momento di interesse della modernità, rispetto a come queste potevano poi potenziare l'ambiente esterno e gli altri. Ecco, nella biopolitica oggi, nel metadispositivo, rispetto al metadispositivo della biopolitica, non è interessante oggi il problema del mutamento del rapporto uomo-ambiente. La storia della cultura è di fatto, ontologicamente, dall'inizio, un continuo mutamento di questo rapporto uomo-ambiente. In ogni momento della storia della cultura assistiamo a un gruppo di individui che intervengono attraverso forme soggettive, tenendo con forme soggettive ingegno, razionalità, intuito, libere scelte, confronti con gli altri, intervengono nell'ambiente esterno per potenziare se stessi. Ecco, quindi questo rapporto muta continuamente nella storia della cultura. Se non ci fosse stato questo rapporto, non ci sarebbe stata la cultura, non ci sarebbe neanche stata la specie umana, non avrebbe avuto seguito la specie umana. Invece, nella biopolitica, tuttavia, ecco perché è un nuovo dispositivo totalmente differente che assume un diverso tipo di indagine, che assume un diverso oggetto di speculazione, questo nuovo uomo, perché si preoccupa di stabilire, disporre il mutamento dell'uomo rispetto a se stesso. Rispetto a se stesso, ma non rispetto al suo rapporto antropologico mente-corpo, anima-materia, ma rispetto al suo corpo medesimo, che da sé trasforma se stesso, come vedremo meglio nella prossima e seconda lezione. Dunque, cosa è la biopolitica? La biopolitica è quel metadispositivo, in questa prima lezione ci siamo concentrati solamente sul problema di essere dispositivo, cioè sul fondare ciò che ancora deve essere fondato, cioè questo uomo nuovo, che è creato ex nuovo, non c'è mai stato questo uomo nuovo, non ha alcun tipo di rapporto col vecchio uomo della tradizione culturale umana, dalle origini evolutive o creazioniste sino a oggi. Ecco, è il dispositivo che ha cercato di fondare un nuovo uomo, che chiameremo da questo momento in poi un super uomo bioculturale, per cercare di, l'ha dovuto definire, per poter, ecco qui l'accezione metadispositivo, per poterlo governare e amministrare rispetto ai suoi nuovi poteri. Nuovi poteri, e questa è la conclusione, l'esito fondamentale di questa prima lezione, nuovi poteri che, riuscendo a autopotenziarsi da se stessi, non quindi attraverso uno slancio spirituale, soggettivo, nei confronti dell'ambiente esterno, poteri che, autodeterminandosi da se stessi, non hanno più necessità del mondo esterno, né dell'ambiente esterno, né degli altri, né del trascendente, né delle architetture politiche tradizionali. Non hanno bisogno né per sopravvivere, né per potenziarsi in futuro. E infatti la biopolitica è quel metadispositivo che fonda un uomo autosufficiente a se stesso. Autosufficienze non nel senso che può fare da sé, può usare le sue potenzialità spirituali per autodeterminarsi, per sopravvivere, per realizzarsi. Ma autosufficiente perché utilizza il suo stesso corpo, attraverso il corpo stesso, per sopravvivere e potenziarsi, in modo indipendente da altro, da sé, intendendo con questa indipendenza non solo l'indipendenza dall'esterno stesso dell'individualità umana, ma indipendenza stessa dalle sue forme soggettive e spirituali che non rivestono più nel superuomo bioculturale, oggetto del metadispositivo biopolitico, alcun tipo di funzione.